Salve a tutti gente e benvenuti in questa seconda parte dello Slender su Fortnite. Vi ricordiamo che in questa serie non sappiamo quello che succederà, però sappiamo solo che qui sopra c'è qualcosa. Quindi, Diego, andiamo. Andiamo. Comunque, questa è la seconda parte e per avere la terza, ragazzi, se ci sarà una terza, perché me ne ho detto, vogliamo raggiungere un tot di like, da Diego ne vogliamo 25, da me ne vogliamo 15. Quando Diego ne avrà 25, io ne avrò 15. Quando tutti e due raggiungeremo questa cosa, metteremo la terza parte. Quindi, probabilmente, quando vedrete questo video, sarà già passato una settimana, se i like raggiunti non saranno quelli che abbiamo chiesto, la terza parte non sarà ancora arrivata. Comunque, augurateci buona fortuna, perché lo Slender potrebbe ucciderci in paio, in qualsiasi momento. È dietro ogni angolo e ci vede sempre. E ragazzi, comunque... Salute voi iscritti. Ciao. Ciao, iscritti. Come va? Io c'ho una paura. Bestia. Adesso, quando scegliamo, potrebbe attaccarci lo Slender. Comunque, non vi dimenticate di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi nessun video, nessun video. Iscrivetevi pure al suo canale e mettete un bel like e dobbiamo arrivare a 25 like. Iscrizione, così arrivo... No, 15 e 25 e dobbiamo arrivare a 25 like per la parte 3. Se ci sarà la parte 3, ecco. Aspetta, aspetta, un secondo. Quindi, iscriviti via canale. C'è tipo un portone, c'è tipo un portone bloccato, tipo da questa parte. Aspetta, fra. Perché qua c'è un buco in un albero? Boh, non lo so. Oh, shish. Ah, niente non si può fare. Aspetta, non lo so. Potrei... Raga, così quasi io mi guardo un video in cui vedo dove fa qualcosa perché non trovo. Non è che abbiamo sbloccato il... questa parte qua. No, 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 no. No, no, impossibile, quello mi sa che alla fine. Ah, sì, sì. Ragazzi, vuoi che cosa dite? Tu che cosa dici, Diego? Ci chiamo la mano. Ok, non lo so. Il capannone di prima, prima di tutto. La ricerca è molto creepy. È molto creepy. Sì. Anche perché c'è sempre la mia. È questo il capannone di prima fa. Sì, sì, ci si è già andato. Non c'è scritto static place. Ah, quello di prima. Eh, oddio. Questo qua, tanto. Ano, questo qua, forse. E che ci stiamo perdendo tantissimo. Ma qui non c'è neanche la... Ah, forse, no, qui non c'è manco la radio. Infatti. Ma era qua vicino. Eh, no, ci siamo persi. Oddio. Raga, quando giocate a sta mappa, vi consiglio di... Boh, di aver mangiato perché... Raga, comunque questa mappa... Questa roba è impossibile, dovete pensare bene per sta roba. Questa mappa vi dico che vi fa sclerare un botto. Eh, madonna. Vi dico che per scacciarvi allo Slenderman, bastate che lo vedete. E si volatilizza subito. Se non l'avete notato negli altri video... Non sempre. Non sempre perché nello scorso video io l'ho guardato, era là, e non se ne andava. È scomparso dopo un secondo. È scomparuto. No, siamo tornati alla casa. Uscisci. Stiamo iniziando benissimo. Come l'altra volta che si era baggata la mappa. Anche prima si è baggata la mappa. Comunque ragazzi, mi sono dimenticato di farvi gli auguri del buon 2021. È vero, ci siamo dimenticati tutti e due di fare le video del 2019. Scusateci, è che... Eh, perché il video del 2021 l'abbiamo fatto. No. No, sono tornata alla casa. C'è una zona qua. Aspetta, mi aspetta, mi auguro, sta ferma. È nuova? No, 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 cimitero. Mi sono baggato. No, 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 non c'è nel senso. Cimitero grande, dobbiamo andare lì. Perché lì ci attacca lo Slender. Ma la mappa proprio non funziona. È certo, no, come sempre. Aspetta su questo. Ma questo è il cimitero, quello piccolo. Dalla casa in cui siamo andati c'era un cimitero grande. Ma aiuto. Ma dov'è quello con la radio? Un cimitero grande cimitero. Aspetta, basta che andiamo alla minimappa. Mi avvicino un pochino di più allo schermo. Oddio. Cosa sono stile? No, ma non si vede niente nella minimappa. C'è tipo, comunque... Ma perché c'è tutto nero nella minimappa? No, 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 non è vero. Non è vero che è tutto nero. Ma io vedo tutto nero nella minimappa. Io no. Io sì. No, è scuro un botto, però si vede tipo del verde. Ma io non vedo niente. No, fai a vedere, no. Spendono qua? No. Trafiggi sì, sono baggagge. Soprattutto la mappa quella grande... Quanto mi piacerebbe se ci fossi una mappa quella grande. Ma perché così? No, noi qui non ci siamo mai passati, ma... Ma mai nella vita. Cos'è sta roba? Dimmi che non è chiusa. C'è una barriera? C'è una barriera. Qui si può passare? Aiuto. Fra, se mai... No, così. Così bagghiamo la... Raga, bagghiamo la mappa. Bughiamo la mappa, ragazzi. Se gli fa sclerare un motto con questa mappa. Ma no, spero. Oh, fra. Fra, se è di nuovo qua... Di nuovi, di nuovi. No. Allora... Allora, io mi dissocio dalla vita, proprio. No, siamo... No, in pratica siamo all'inizio. Oddio. Ma fra, se non la troviamo manco lo carico il video. Ma neanche tu. Cioè, se no dobbiamo ricominciare. Perché se non troviamo più sta casa... No, no, dai. Non ci dobbiamo mai arrendere. Vabbè, non può durare due ore questo video. Eh, infatti. Ma non è che scompare la scritta dopo. Aspettate, io continuo a guardare il video. Guarda un video, ragazzi, basta. Basta, basta. C'è già il possibile. Garage. Un secondo. Un secondo. Qui sale su una casa, non vedo se quello... No, qui mangia la mela. Dove andare più indietro. Mi ha sblocato il garage. No, no, quella è piovanti. Ah, peccato. Aspetta. Oh. Oh, lui è al cimitero quello... Quello lì. Aspetta. Ma ti fa vedere dove... Dove... Come c'è andato? Ragazzi, scusate se guardiamo i video perché è veramente impossibile sta roba. Ma no. Cioè, noi stiamo facendo il giro della mappa. Aspetta, c'è tipo una grande collina e sopra... C'è tipo una grande collina. Quindi con questo siamo aiutati. C'è una grande collina che potrebbe essere una di queste qua vicino. E sopra la collina ci sono delle barri... Delle barriclame. Capito? Ho capito. Seguimi, farò che dobbiamo stare insieme. Comunque ci mancano tre pagine. Ah, sì. C'è una grande collina, poi dopo... Sopra c'è... Un cimitero grande. Cos'è qua? Sì, è questo. È questo, è questo, è questo, è questo. Questo? Ecco, non. Qui ci attacca lo Slender, qui ci attacca... E come si sale? Qui è stato a spazio. È qua? Fra, 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 fra. Ok. Hai trovato? Ah no, è bloccato da... Da... Invisibile qua, un muro invisibile. Aia! No, è lo Slenderman! Dov'è, dov'è, dov'è? Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Secondo me si sblocca qui. Aia! Eccolo, eccolo qua! È qua, è qua! Oddio! Oddio! Oddio, che brutto! Si è sbloccato, si è sbloccato. Oddio, che brutto. Ho 79 di vita, Frank. E te? Quanto sei? Io ho 77. Oddio, ma qua ci dovrebbe essere una pagina. Cerchiamola. Eh sì, questo è sicuro. Una mia! Fra, è bruttissimo! Vabbè, l'avevo visto anche nello scorso video. Però, fra, è veramente brutto. Paolo che mi sente. C'è paolo che mi sente, però. Vabbè. Mi spio controllo dove ha trovato la paura. Allora. Però, quel creatore della mappa ha messo in posti infami, eh? Qui viene attaccato dallo Slender di nuovo quando vai in un punto. Ma che punto? Cioè, qui viene attaccato di nuovo, so solo questo. Spio controllo. Mi sto addormentando. Non lo faccio di questo cibo. È anche io difficile. Se mappa qua bisogna farli live. Così le live possono durare anche due ore. No, no, è infamissimo il posto. È infamissimo. No, no, no. Dov'è? Ma è infamissimo. Io smetto di giocare. Ma è veramente infame. Guarda qua. E qua è ma infamissimo. Ma non l'avevo... Cioè, io ce l'ho... Eccolo, eccolo, eccolo. Ecco. Dov'è, dov'è, dov'è? Mi sa che l'ho guardato perché è scomparso. Adesso abbiamo sblocato il garage. È scomparuto. Andiamo dal garage. Dobbiamo tornare all'inizio. Scappiamo, scappiamo, scappiamo. È scomparisciuto. Corriamo. Corriamo. Sono bloccato. Anch'io. Corriamo, corriamo, corriamo. No, è tutto bloccato. What? Odio, frammata, ma non potete... È davanti a me. È davanti a me. Che brutto, che brutto che sei. Sei brutto. Era davanti a me. No, aiuto. Sono bloccato io. Ahia, ahia. No. Dov'è? Dov'è? Vieni, affrontami. Se c'hai le palle. Ecco, eccolo. Static place. Eccolo lì prima. Vabbè, non ci siamo più. È bruttissimo. È una brutta faccia lui. Cioè, nel senso, non ha una faccia, però comunque è una brutta persona. Non ha una faccia, il senza testa. Cioè, la testa ce l'ha. Però di... È una limite. Perché c'è la faccia piena di pagine. Eh. No, fai, al garage dobbiamo andare, al garage. È garage, dove è la casa? È tipo qua, è tipo qua. Vicino all'inizio, sì. C'è un parchetto. Ah, ecco. Sto arrivando. Dimi che l'abbiamo sbloccato, mamma mia. Sì, è sbloccato, sbloccato, sbloccato. Oh, ahia, ahia, ahia. È davanti a me. C'è la bambina, c'è la bambina. C'è la bambina qui, c'è la bambina qui. Fra, mi sta uccidendo. Mi avete asportato. Fra, mi sta uccidendo. Mi sta uccidendo. Mi sta uccidendo tantissimo. Le mele. Non, aiuto. Devo mangiare. Sono in casa. Sto morendo. Ma ce ne sono, ma ce ne sono quattro. Ok. No. Ce ne sono quattro. È impossibile. Io sono morto. Ma è impossibile, ce ne erano tre, Fra. Hai visto? Come ce ne erano tre? No, aspetta, non dobbiamo rifare la mappa dall'inizio. Anche te ti hai asportato dove c'erano quattro lati. No, che brutta mappa. Fra, ma anche te ti hai asportato dove c'erano quattro lati. C'erano quattro lati. No, Fra, ma io ho visto solo. Che brutta mappa. Fra, te hai asportato anche te dove c'erano quattro lati. No. A me sì, c'erano tre slenderman. No, ma quindi noi dobbiamo rifare tutto dall'inizio. Io non ci ho sbagliato. No. Allora. Allora. Ricordi, guarda la seconda. Allora. La seconda, sì, 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 sì. Ma che schifo. Mamma mia, i creatori. La prossima volta facciamo una live, seriamente. La prossima volta una live. Mi sento, adesso vedo cosa fa lui dopo di questa volta. Ma, Rofra. Ma perché ci vogliono male queste persone? Mi sa che non si può neanche più andare avanti dopo che... Aspè, qui è nel garage. Mangia le mele. Ci sono tante mele. Il garage quante mele ci sono? Ma lui non ha pensato lo slenderwain in quel punto. Ah, perché deve continuare solo uno, forse. Vuol dire che uno di noi è destinato a morire. Cioè io. Vabbè, andiamo subito. Facciamo una speedrun a questa volta, veramente. Vai, vai, vai. Allora, la terza l'ho presa. Allora, c'è il lago adesso, credo. No, no, adesso c'è il parchetto. Ah, è vero il parchetto. Oddio, non mi ricordo più. Che infami. Speedrun, Fra. Speedrun. Vai, vai. Prendi, prendi. La panchina, la panchina. Guarda che posti infami poi. Ma poi non me l'ha neanche presa. Te la prendo io. Ahia. No, eccolo, eccolo. È lì. È lì, è lì. Così, non so dove. Adesso deve andare all'aghetto, all'aghetto. Era difficile arrivarci. Però peccato che non si possono prendere neanche le mele. È arrivato da una roba creepy a una speedrun. Madonna. Oddio. È diventato una speedrun, sta cosa. Non si possono neanche tenere le mele nell'inventario. Questo qua è brutto. Dopo arriva lo slender, me ti ammazzo. Non ti bloccare in mezzo agli alberi. È qui da quella che parte, eh? Ecco il lago. Qui, 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 qui. Qui, 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 qui. Siamo diventati degli speedrun. Stavo, voglio provare a prenderlo io. Chiave, chiave. Ehi, chi ha? No, slender, slender. È qui, qua, qua, qua. Schifoso. Ecco. Hai preso la chiave? Sì, l'ho preso. E allora apri. È una me la farglia. Oh, ecco. In ultima volta non so perché ho dovuto spaccare. Aspettate. C'è, slender, slender. Quelli mi fa vedere, mi sa. Qui c'è una mela, la posso prendere io. Prendi, prendi, prendi. Che c'è un po' meno vita. Ora dove dobbiamo andare? Aspettate, aspettate. Ah, il cimitero mi sarà presente. Il cimitero. Quello grande. Aspettate, quante pagine abbiamo preso, però, per ora, cinque. Infatti, la sesta pagina è quella lì, sopra la collina, che è vicino a Caolina, c'è pure quella roba lì. Quello lì da sbloccare, poi c'è attacca lo slender. Ok, basta che vediamo una collina con sopra delle staccionate, poi ce l'abbiamo fatto. Ma mi sa che solo uno di noi deve continuare a vivere. Ahia. No, eccolo, eccolo, eccolo. Dovero? L'hai visto? Non lo so. No, no, no. È invisibile. Ah, l'abbiamo sbloccato a questa parte, ok? Non vedo. Adesso dobbiamo andare qua 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 qua. No, mi la mela. Grandi, prendi, prendi. Corri, corri. Si è diventato con gli speedrunner. No, dai. Speedrunner di Emappe Orr. Che bello. Eh, ragamora, serie, speedrunner di Emappe Orr. No, adesso ho fatto il titolo cringe, lo devo mettere per forza. No, di nuovo il lago. Abbiamo fatto un giro. Eh, vabbè. Questa mappa è un po' infame. Madonna. Qui è bloccato, qui è bloccato. Qui è bloccato. Dobbiamo andare nel... 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 Mi si chiama la collina, ecco. C'è un tipo una collinetta con sopra delle stazioni. No, mamma mia. Però prima dobbiamo andare... Però mi ricordo che prima dobbiamo prendere quella... La radio, ti ricordi, la radio. Ah, è vero. Ma fra io qua sono bloccato, qua al posto, miso. La radio era vicino a collina, però. Eh, sì. No, la radio era proprio sotto la collina. Ah, no, pure era vicino al cimitero, quello piccolo. No, era al cimitero grande, che sopra c'era tipo una collina. E sopra la corte... Poi ci attaccava lo Slenderman, si sbloccava tutto. Mamma mia. Sono un po' di infami, questo. Perché non possiamo ancora andare. Questo dobbiamo fare il giro qua. Qui c'è un orto. Oddio. Sì, zono, no, non ci fa passare. No? Non posso andare neanche nel cimitero piccolo. Come? Ah, no, sì, sì, sì. No, no, no. Perché ero bloccato. Stranamente. Siamo diventati degli speedrunner. Tipo Crazy Mad che fa la live a mezzanotte per battere il record mondiale di speedrun di Minecraft. Eh, vabbè. No, mezzanotte, poi, ma chi... Cioè, 500 persone a guardarla a mezzanotte. Ho trovato un... No, niente. Poi, abbastanza veloce, in dieci minuti è andato nel nether. Vabbè, ma sono troppo, mi fa... Ah, spero, una mela! Una mela! Come si fa a creare queste mappe? Aiuto! Ma sti infami... Un altro video di 32 minuti, che bello! No, ma che ne abbiamo superato 40. No, adesso no, non ne abbiamo superati 40. Sì, direi di siffra, mi sa di sì. No, no, non, 40 minuti. Mi sa di brutto. Ne abbiamo superati di brutto. No, 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 40 minuti, non ne abbiamo superati. Sì, fra sì, infilati. No, 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 non ne abbiamo superati 42. Fra io ne sono quasi sicuro, te lo dico. Stai cinto. odio anta minuto roma riso rizzo ma non la mano a bocca tutti tutti sono chi mangiù passa conto non sono non posso ma basta che giriamo tra le colline la troviamo quella giusta no perchè lo sai perchè ho sentito ridere perchè visto che lo slender me rapisce bambini e lo slender me ha rapito una bambina infatti sentito ridere spaventiamo se può muro c'è nel senso è brutta ma è bella la matta rapisce le bambine e basta e li manda nel palco giochi molto family friend e abbia mangiato un'unica mele ci sono dei dei fan che ci sono state avvelenate che sono state avvelenate di nonno slender proviamo che sono state avvelenate di nonna slender nuovo meme le crostate di nonna slendermen molto creepy molto conigio le crostate di nonna slendermen slender perchè è un abbreviativo ah è vero man ah è vero man perché la nonna la nonna la nonna cioè non è di nonna slender di nonna slender nuovo meme molto creepy anche questo ballo ma perchè da xp a caso è un bel gioco camminiamo da xp perché è un bel gioco bello allora io uno slender ma ti dico cosa ho visto cioè io non capisco il video è strano perchè in pratica dal garage mi ha teletrasportato in quattro sentieri e c'erano ogni quattro sentieri uno slender in un sentiero non c'era ma ammintavano tutti quanti penso se non stai registrando i miei dissocio i miei dissocio i miei dissocio siamo tornati alla casa se sono forti ma questa casa se ci avessi il pugno quello di salva al mondo la spaccherei in tre pezzi se potessi usare il piccone o le tmt di minecraft ma siamo su fortnite ma che cacchio dico mela 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 fammi mangiare la mela grazie mangio mele mangio mele io boh è una mappa abbastanza bella al giorno toglie lo slender man di torno ah non lo sapevo no vabbè io non so più che fare ma mi stiamo diventando a caso poi camminando mi lascio io non so più cosa devo fare cioè non sto capendo ce ne siamo tornati all'inizio eh sì ma poi dove sta collina odio sto gioco cancello il video dell'altra volta no lo cancello così mi tolgo da mi tolgo da poi il problema che a me c'è messo 62 minuti per caricarlo quello di ieri e io lo cancello perché non voglio continuare a fare sta storia io invece lo carico e poi come non è neanche vabbè ma che cazzo carichi noi che camminiamo a caso che non troviamo niente io carico tutto perché voglio voglio far vedere alla gente che sono che siamo delle persone forti coraggiose fare questa mappa noiosa questa mappa fa schifo come la fame esatto infatti siamo alle 12 e mezza e abbiamo fame questa cosa fa schifo dov'è sto cimitero mi sei vabbè io mi dissocio adesso io minaccio lo slenderman adesso ti è fuori col cimitero ottima slenderman adesso lo evochiamo slenderman 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 ma 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 perché abbiamo fatto sta mappa ma infatti ma boh dito però possiamo cancellare secondo me no 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 ma che ma che ma questo video bello perché voglio vedere poi te vale cosa cosa hai fatto ma ti posso andare a fare youtube allora vale non cancellare il tuo video che voglio vedere ehm la la le cose vie la che ho trovato la slenderman che ti ho te ho trasportato ma secondo me la mappa finisce qua perché tu come fai a sopravvivere che ci sono 4 slenderman che ti ammazzano eh 3 slenderman che poi ti ammazzano ma tu tu dove eri scusa come hai fatto a morire boh io praticamente ero di fianco alla casa mi appare davanti lo slenderman che tiene per la mano una bambina e mi continua cioè mi continua a fare danno potevi andartene potevi scattare eh ma non ci ho provato niente io che provavo ad andare dentro la casa ma quello nel video non è successo così ma mi sa perché si deve fare da soli sta mappa ma secondo me noi siamo andati molto avanti però secondo me la mappa finisce qui no no si deve trovare 8 pagine eh eh perché lui va avanti oltre quello va più avanti cioè il video non finisce lì noi cioè noi stiamo a cazzeggiare così non facciamo prima da dare in un bosco a pittare tre pagine 8 pagine e ritrovarle più che fare su sto gioco cioè vero fatti cioè preferisco preferirei affrontarlo davvero se slenderman che starà impaziente tre giorni per fare sta roba comunque raga e vi dico attivate la campanellina perché è un giorno di questi oppure stasera gli altri video perché stasera livello 48 livello 48 livello 48 allora stasera farò una live forse sui autobu mi capito attivate la campanellina e non perdetevi la live di questa sera basta che faccio trasmetti dal vivo io perché io ce l'ho si metti 4 minuti se farò la live forse stasera alle 7 ciao a tutti gente adio ciao amici ciao amico ciao my friends adios noi ci vediamo in un prossimo video attivate la campanellina iscrivetevi al canale e ci vediamo forse stasera alle 7 di sera quindi ciao ciao a tutti ciao a tutti che